Io ho dato disposizione alle ragazze che servono ai tavoli di chiedere assolutamente se c'è il dubbio che una ragazza abbia 16 anni di chiedere il documento. Sicuramente è un problema che ormai sta toccando tutta la società e bisogna rendersi conto che la società è in rapida evoluzione e quindi anche il grosso potere di acquisto che hanno oggi i ragazzini, i nostri figli a cui diamo tranquillamente i 20, 30, i 50 euro gli permette di fare un uso anche improprio del denaro che viene dato. Quindi bisognerebbe un attimino incontrarci con le sfere ad alto livello e capire cosa bisogna fare non tanto come blocco nei pubblici esercizi e quindi molte processi e robe varie ma bensì capire che il problema è un problema sociale va gestito in una maniera adatta con gente che studia, che capisce i problemi dei minorenni, che capisce i problemi dei teenagers e che per sentirsi grandi fanno questo uso sproporzionato dell'alcol. Ieri, un esempio di ieri, una ragazzina che avrà avuto se no 18 anni alle 4 del pomeriggio sotto il soleone si è bevuta una vodka. Niente, le situazioni non sono ovviamente molte nel nostro caso specifico di questo locale. Certo che quando comunque arrivano dei ragazzini o comunque delle bande di furbeti che chiedono sicuramente, ci provano a chiedersi il gin tonic, il gin lemon, ovviamente al momento li guardi e dici scusate ragazzi quanti ne avete? Questo è il problema. Il fondamentale è arrivare a capire cosa vogliono. Quando loro te lo chiedono tu gli dici scusate ma qui non diamo alcolici. Questa è la formula che adottiamo noi. Per quanto riguarda ragazzini di una certa età che potrebbero essere dei diciottenni, ventenni, ovviamente siamo sempre lì lì e non riusciamo neanche noi a capire realmente se poter, se non poter. Certo che al primo giro va, al secondo giro ragazzi purtroppo è finita lì. Uno ok, due no. Certo che dall'età da un po' più alta dei 14 anni perché comunque vedi i ragazzini anche alle 3, alle 4 del pomeriggio che arrivano e ti chiedono una bibita alcolica, anche un Montenegro per esempio, anche un Amaro. Quindi sono cose che probabilmente a monte è il problema in sostanza, secondo me. Io ho 35 anni, alla mia età, a 16 anni non mi sono mai permesso per quanto avesse avuto una famiglia alle spalle di tutto quanto di andare in un locale e chiedere un Amaro, un Bianco, un Prosecco a 15 anni. Quindi secondo me il problema è realmente precedente. Noi siamo l'ultimo anello della catena, quindi ovviamente noi siamo i più in confusione in questo momento. Quindi comunque per quanto riguarda noi l'età si chiede a tutti quando ci sembra che l'età non sia raggiungibile per bere una birra. Tutto lì.